Se non pioverà in maniera importante il Consorzio di Bonifica Toscana Sud potrà garantire acqua per uso irriguo per un massimo di 20-30 giorni. Lo ha detto il Presidente Fabio Bellacchi da Barbaruta, dove è presente una delle idrovore che distribuiscono la risorsa idrica in tutto il comprensorio. L'altra è quella di Alberese. Stiamo cercando di utilizzare l'acqua nel migliore dei modi, stiamo cercando di poterla garantire a tutti. Sì, certo abbiamo un'autonomia, spero di avere un'autonomia di altri 20-30 giorni, sia qui a Barbaruta che all'Alberese, nel comprensorio dell'irrigazione. Oltre che nella zona di Barbaruta il Consorzio Bonifica distribuisce acqua anche nella zona della trappola tra Grosseto e Principina Mare. Acqua con cui si alimentano terreni fertili che garantiscono ottimi prodotti della terra, per questo la preoccupazione di fronte alla siccità è maggiore. Questo qui di Barbaruta prende acqua dal Bruna e dagli altri canaletti, dalle altre sorgenti, mentre l'altro più che altro prende acqua dall'Ombrone, è 3.300 ettari nella zona della trappola, nella zona che arriva a fine marina e sinceramente sono i terreni più buoni, i terreni più vuoti per l'irrigazione. Ci stiamo attrezzando anche per la parte di Alberese, per cui due impianti insieme gestiranno anche la parte di Alberese.